Ehi, sei sicura? Certo. Tu non vuoi farlo? No, 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 lo voglio. Non so davvero da quanto tempo aspetto questo momento. Ok, allora che c'è che non va? Non lo so, non mi sembra giusto farlo adesso. Perché ora, la notte del ballo? Voglio sentirmi vicino a te. Perché da quando ti ho parlato della NYU mi sembri molto distante. Quindi tu, tu vuoi fare sesso con me perché ti senti insicura? No, io non, non intendevo questo. Che cosa ti aspettavi? Hai letteralmente scelto di allontanarti da me il più possibile. Tu hai scelto la distanza. Non è giusto. Non è giusto che tu ti comporti come se fosse tutto ok. Sappiamo entrambi che cosa succederà quando saremo lontani. Non è vero. Sì, sì, invece. Altrimenti non mi avresti regalato questo. Così ti ricorderai di noi. Andiamo! È un regalo di addio. Ti stai sbagliando. Voglio stare con te e non desidero nient'altro. Allora perché non vai alla Berkeley? Mi sono innamorata di New York. Ma questo non cambia quello che provo per te. Potremmo ancora far funzionare le cose. No. Non aspetterò che tutto questo finisca fra tre o sei mesi o chissà tra quanto ancora. No, per favore, non farlo. È meglio chiuderla ora. Peter. Io ti amo. Non abbastanza, a quanto pare. No, per favore. Non abbastanza, a quanto pare.